Salve a tutti ragazzi e benvenuti a essere in questo nuovo video di Rhyne andkind Andiamo a farci spaccare il culo da quello là, perché che tanto quello succederà Sicuramente io ho, quando ho il 50% di possibilità di fare una cacata, la faccio al 100% e questo è il bello Ok, come mai ti trovi in questo posto? Teressi mi ha trovato, non gli darò soddisfazione, non gli darò ok Cosa facevi nella vita prima di finire qui? Non lo so più onestamente, è passato così tanto tempo, non so per dire se questi ricordi sono miei Io sono diventato uno stronzo, fammi leggere Ero uno studioso, credo, nell'Accademia Militare vicino alla costa, esiste vero? Una notte ero nella mia stanza a leggere e quando all'improvviso ho abbassato lo sguardo e ho visto il mio corpo a terra Era accaduto qualcosa, la rovina Non ricordo molto, dopo quello ho passato molto tempo a vagare e correre, non so dove sono finito qua Strano, vero? Sì, è inutile chiederglielo, vabbè Sì, è questo, ben bel fatto, ora dammi la moletto Oh porca vacca Vabbè Figuriamoci Chiedo scusa Credimi, non volevo farti del male Avevo solo bisogno di un po' di essenza vitale Ho preferito chiedere scusa piuttosto che chiedere permesso Ecco, ho infuso la pietra rossa Ha del potere Non molto, ma insomma Puoi aprire le porte, i sigilli Ok Ho mantenuto la parola Merito gratitudine Altri non vivi Non so Con l'essenza ho preso da te Posso finalmente dire a tua sorella che sei uno stronto Fammi leggere Va bene Amoletto ha rinforzato i cremi Quindi devo tornare indietro a fare tutto il resto Oh santa miseria Che due baroni Allora, invece di tornare indietro Vediamo se posso fare qualcosa qua Grazie È quel cazzo che ti aiuta a uscire Allora, vediamo un po' perché qui c'erano effettivamente le cose da aprire Non ricordo assolutamente dove Quindi vi faccio una passeggiata E vediamo Qua C'era questo Vediamo Perfetto E vediamo cosa c'è Chi è? Oh Campana paradisiaca E che cazzo è la campana paradisiaca? Ma ditemi qualcosa Porca miserica Non so cosa sia sta campana paradisiaca Campana paradisiaca Epica Anche solo di queste campane non è forte Come si poteva Non divisi la distanza Come quello che è normale Non ci ho capito Un cazzo di niente E sono contento Comunque è una cosa buona Epica Abbiamo presa E tanti saluti Quindi torniamo giù Andiamo a fare il resto Speriamo di poter livellare il prima possibile Perché insomma ci vuole Quindi qua si può aprire Siamo qua Dovevo andare anche di là Adesso ci andiamo Qui possiamo riposare Qui possiamo riposare Qua ci possiamo teletrasportare Però prima di teletrasportarci Volevo finire di girare Insomma sì Perché qui c'è tanta roba da aprire Se la trovo Perché insomma la roba c'è Però si possono anche trovarla Allora di qua Siamo ritornati là Abbiamo aperto la strada A parte che c'è questo indiota Qua che non serve a niente E quindi proseguiamo ancora di là Vediamo un po' Qua Perfetto Eh si va Da qualche parte La cella dell'angosciato Non so chi cazzo sia Andiamo a vedere poraccio Cosa avrò mai fatto C'è tanto da fare Aspetta Scusate Anzi nuovo luogo Però qui c'era ancora Qualche luogo da visitare Prima di andare sia al centro Che di qua Volevo prima Finire di scrollare E vedere se posso aprire tutto Vedete che qui c'è Perfetto Vediamo un po' Se si può fare qualcosa Apri Ci spacco il culo in quattro parti Come ti permette Perfetto Qualcosina Qualcosina Non è tanto Però non è quello che mi interessava Voglio capire Se aprendo tutte queste celle Qualcosa di buono È uscire fuori No E niente Adesso lo combattimenti Fuggione del mondo Fuoco a volontà Vai C'è il 28 Battimenti tra la vita Eh sì È stato bellissimo Te l'avevo detto Eh anch'io Stiamo aumentando Il suo potere d'attacco Ricolite questo casino Chi di ciò 96 96 non è tanto Però siamo vicini Beh Non è che è data male male Eh vabbè Vogliono tutti combattere Ma nessuno che mi dica grazie Non provo alcuna paura Fa piacere insomma Mamma mia Ho tolto tantissimo Non è riuscito a fare niente Ma io ero messo malo Cioè non me ne accorgo Quelli tolgono vita Devo stare più attento E qui siamo a posto Quindi questa è andata Poi c'era qualcos'altro? Mi sa proprio di no Quindi Allora ci sono ancora due posti Da visitare Quel teletrasporto Non ho capito dove porti E qua la zona nuova Che poi porta un'altra parte ancora Quindi proviamo questo teletrasporto Che poi vediamo insomma Speriamo che ci porti Non ho capito dove siamo Ah ci ha portato qua Che non funzionava Ok E qui c'era della roba Che Non si poteva Io non mi ricordo più Purtroppo Mi sono scordato Dovrebbe no Dovrebbe aver aperto tutto Ci guardo Per curiosità Perché Mi ricordo abbastanza Che c'era qualcosa Che non mi abbiamo potuto aprire Però non so dove E quindi lo giro Un attico Avete pazienza Perché sono cose importanti Facciamo il giro Ok Ecco qua No Siamo ritornati dal tipo lì Va bene Benissimo Va bene Scusate ma devo fare la prova Adesso possiamo andare Tranquillamente via Eh Salve eternità Di qua abbiamo fatto tutto Che abbiamo preso la campana Bene Andiamo via dai Scusate ma Devo fare la prova Ok Ah ci dà sempre qua Ecco perché Mi sento un pirla Eh vabbè Ci volete fare Ho fatto così O mai mi accettate per come sono So Cambiarmi e fatica Allora Fai Ti sventro come un pesce Grazie eh Ecco un altro trofeo E te sei morto Ok La dea sarebbe felice Spero si faccia sempre la sbaccarata Perché qui si è messi malo Ecco qua Perfetto Grazie a questo bonus Vale Diciamo avere ogni tanto La possibilità di Oh salve Non mi piacete Per un cazzo di niente Per proprio per niente Vi piacete Eh lo sapevo io Eh lo sapevo io Eh no bisogna fare Morsi e sepolti Bisogna fare l'altra L'altra cosa Vai Bisogna fare questo Lo facciamo Questo a questo Ok Speriamo di sopravvivere Ok Ce lo possiamo fare Vai Ok Eh no Non è andata male Dovevi farcela Io avevo fatto la cura però Sono andato così malo Insomma Ok vai Perfetto Va bene Va bene Possiamo fare Perfetto Oh che dolce Eh grazie Eh sarà dura eh Lo dico subito Come fossero già affogati Ok Perfetto A chi tocca ora Sì sì Dai che ce la facciamo Perfetto Oh Fantastico Ce l'ho massacrato Perfetto Perfetto Dai c'è andato bene Abbiamo avuto ciò che meritavano Erano pesanti Questo mi devi dare Almeno 300 Insomma Eh 1200 Cos'è questo Eh Un grosso pezzo Di costruzione di pietra Ok Perfetto Cioè abbiamo praticamente Livellato Vedete come serve Oddio Mi stavo sistemando Oh che cavolo Cosa vuole dare quello Scusate Lo fa capirci Dove vuole andare Così impara Il dolore Mi spanesce Vabbè Non ne vale i proiettili Ovviamente ci da un cazzo Però Però Eh 13 Lo stesso è buono Considerando quanto ci Ma cavolo Che cazzo è sta roba Non si fa così È da stronzi Lo sa Allora Fatemi vedere Dove devo andare Devo andare qua Vai Ah Pronto che questo mi spara Se no Fa culo Salve Un uomo è seduto Non è seduto In ginocchio Nella sua cella È molto debole Il suo viso E le sue braccia Sono coperti Di piaghe Ti guarda Con il suo occhio Morente Non sei come gli altri Sei ancora vivo Sono venuto Nelle isole ombra Sperando di trovare Una cura Lascia la nebbia curativa Su di lui Ah lancia Bene Quell'ondata di sollievo In veste La sua espressione Il corpo dell'uomo Finalmente si rilassa Non avrei mai pensato Di trovare il poso qui Grazie Sussurra Il sollievo dura poco E la tensione Torna Nel suo volto Non mi rimane Molto tempo Ecco a me Non serve più Ora È morto Sorride per l'ultima volta Senza Preavviso Fa più Respiri Consecutivi E poi Espira A lungo Dopodiché Non ispira più È morto Wow Sfera della marea Che cosa triste Mi vengo a piangere Allora Sfera Sicuramente A lei Sfera Non sapete che non ho idea Inventario Sfera Non la vedo È una sfera È una sfera È una sfera Non è che siamo passati qualcosa È una sfera È una sfera Eccola qua Può essere offerta Naga burrosa Ah Nella pura Nella Prua Nella nave del pozzo Doveva offrirla E ci darà qualcosa Oh cazzo Oh cazzo Mi devo ricordare Ma quando si ricorderà mai Una roba del genere E insomma Ricorderò mai Vabbè Mi sono fatto malo Adesso arrivo eh Scusate Non mi ricorderò mai C'è poi Che cazzo fa? Ah Interessante Quindi siamo Dovevamo trovare qualcosa di meglio Eh Va bene Sai chi sono io? Babbo Natale E questo è quasi andato Porca di quella troia Ma si potrà una roba del genere? Cioè È proprio da stronzi Guardati È proprio da stronzi Meno male che avevamo Quella Quasi graffilato Cioè È proprio da stronzi Il dolore vero Non svanisce Cavoli La dea sarebbe felice Eh Speriamo Speravo fossi Un po' più forte Insomma Non è che ci ha fatto Solletico eh Non è che mi sia divertito Porca puttana Se gli stannutevo in faccia Se passarebbe di livello Eh vabbè Andate così Master putti Oh Alleluia Questo è un no molto virile È vero Pike Ok Vediamo un po' Pike Rune Allora Lei due Non ci faccio un cazzo Me ne servono tre Lui due Non ci faccio un cazzo Me ne servono tre Siamo tutti felici E non ci serve un cazzo Me ne servono tre Benissimo Ma una curettina Magari veloce veloce Me la darei Oh cia boy Che roba Assurda Estrusa Che gli ho fatto Mi scusi Ma porca vacca Ho sbagliato Eccolo qui Perfetto Così salisce di Di bello Il movimento è tutto Si Il movimento intestinalo Allora Perfetto Vai Perfetto Un'altra tacca Sulla pistola Vai Di questo Poglio Di baroni Bene Va bene Perfetto Ci si sente bene Eh si Abbastanza E' tutto stronto Verranno messi alla prova Oh porca troia Ole Ce l'ho fatta Dai Così impara Speriamo eh Perché insomma L'abbagatato Ci da tantissimo Sì Allora vediamo un po' La nostra amica Cosa ci da Ah Nebbia curativa 3 E' quella che usiamo Sì Lui non mi interessa Per il momento Lui non mi interessa Per il momento Lei mi interessa Ah l'ho letto Aspetta E' quello che Non me lo ricorda Adesso c'è quarto Non mi ricordo mai cazzo Allora E' quella Lui no Lui no Lei si Ed è quella Oh Quella che noi usiamo Vediamo cosa fa La corsia del potere Converte la guarigione In eccesso In uno scudo Questa è una figata Cura ogni alleato Per ulteriore No 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 Sì 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 Mamma mia Quindi è una figata Senza fine Lo uso in modo compulsivo Adesso Sono contento Poi Chi c'era? Lei Oh sì Finalmente Questa qua Che lo usiamo ogni tanto Guardo se c'è altro No tutto a posto Vediamo cosa c'è Un colpo via Spezza cuore Non consumo Un colpo via Wow Posso farlo In modo compulsivo Infine 70 danni Per ogni carica Di andatura Vediamo questa va Non so cosa La carica di andatura E quindi sono felici E c'è boia Ci dici a te Sì sì arrivo eh Vai Mamma mia Mamma mia che emozione Adesso gli spacchiamo il culo Proprio Così tanti stupidi Così poco tempo Vediamo un po' Adesso Sono curioso Adesso Dobbiamo aspettare Per me Per me Aspetta che si carichi Non voglio usare mana Perché dopo magari mi serve Vai Quasi graffiato Sì 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 Va bene Vai Ottimo Quindi così Vai Allora Vai così Ho bisogno di aiuto Adesso lo dai da solo aiuto Stai per caricare Perfetto Mamma mia Che figata Perfetto Che spreco di munizioni Vai È una figata Abbiamo lo scudo Adesso Che è una cosa bella È tutto qui Fantastica E ci danno tantissimo Perfetto Mi è salita la gattina E lui Allora lui Che ci dà Perfetto Andiamo subito Allora Guarderò Oh che bella cosa Abilità Abilità Lui Cosa facciamo qui Non lo uso mai Insomma sì Peccato Insomma sì Vediamo cosa fa Consumo fino a 40 Sovraccarico Infine a 100.1 Danno aggiuntivo Per ogni 10 di sovraccarico Non mi interessa Se è invisibile Infine a 300 Oh Che bella cosa Oddio che bello Sono contento Va È contento di poco Lo sono fatto così Eccoci qua Perfetto Eh tanto che se mi attacchi Oh sì Hmm perfetto quindi dobbiamo tornare da custode a farci dare quella cosa una cosa molto utile perché così possiamo potenziare quello che ci è rimasto oh barbozza antica c'è una barbozza mi dai io non so mai che cazzo c'ho in mano allora barbozza antica che cos'è giacca no barbozza ok è un ciondolo quindi equipaggiamento qua barbozza antica no perdo di rapidità perdo si guadagna parecchio ma rapidità mi serve dove è barbozza scusate il ciondolo sono sbagliato niente a posto possiamo anche salutare adesso prendo sta roba qua qua si va reliquiario quindi non penso e credo che ci sia da andare ritornerei di sotto così andiamo dal tipo gli diamo il ricordo gli diamo sopra e facciamo casino quindi ragazzi come al solito vi vedi se non l'è anche il commento se mi piace se mi fai di farmi appunto sapere cosa ne pensate però spero un saluto così va ciao ciao